Musica All'origine delle giornate mondiali della gioventù Ci sono due eventi importanti di cui i protagonisti erano proprio i giovani Il giubileo dell'anno 1984 e l'anno internazionale dei giovani del 1985 La risposta dei giovani all'invito del Santo Padre è stata proprio straordinaria Ha consegnato ai giovani la croce, segno dell'anno giubilare La croce che è diventata la croce dei giovani, la croce delle giornate mondiali della gioventù La prima giornata mondiale dopo l'istituzione di questo avvenimento nella Chiesa È stata celebrata a livello diocesano Poi la prima giornata fuori Roma ha avuto luogo nell'87 Un anno dopo, Domenica delle Palme a Buenos Aires Più di un milione di giovani È stata la prima giornata fuori Roma Poi tocca a Santiago de Compostela nel 1989 Questa giornata ha portato già una struttura definita del programma in tre parti Le catechesi, la velia di preghiera e l'eucaristia dei giovani del mondo Dopodiché, Częstokowa, un altro santuario Questa volta è il santuario mariano, luogo dei pellegrinaggi molto vivi Questa giornata è passata nella storia come la prima giornata mondiale Dell'incontro dei giovani dei due ex blocchi ostili Perché la prima giornata dopo la caduta del muro di Berlino Poi le altre giornate mondiali Denver, il pellegrinaggio verso una metropoli moderna Non più un santuario Ma una metropoli moderna dove bisogna portare Cristo Dove Cristo deve essere testimoniato E noi siamo un corpo, il corpo di Cristo E noi non stiamo solo E noi siamo un corpo, il corpo di Cristo E'o venuto che potremmo avere vita Poi un'altra giornata mondiale Manila passa in Filippina E passa la storia come una giornata mondiale Con il più alto numero di partecipanti Circa 4 milioni Per la prima volta è successo Che tanti tanti giovani, tante persone Si sono radunate insieme intorno al successore di Pietro Poi Francia La novità portata dalla Francia Tra l'altro la via Crucis E poi anche la visita nelle diocesi francesi Arriviamo al grande giubileo dell'anno 2000 Più di due milioni di giovani Si sentiva proprio Kairos Questo tempo sacro, tempo speciale del grande giubileo Di nuovo siamo nella metropoli moderna Grazie Rails Grazie a tutti Noccoli Colonia passa la storia come giornata mondiale di due papi. Giovanni Paolo II che ha voluto questa giornata, ha scelto Colonia e ha preparato per così dire questa giornata mondiale. E poi il Papa Benedetto XVI che questa giornata ha celebrato. Il Papa Benedetto si è identificato completamente con questo programma di evangelizzazione dei giovani proposto da Giovanni Paolo II. Dopo Colonia, Sydney, il 20% della popolazione sono cattolici, ma nonostante questo l'accoglienza è stata stupenda. L'accoglienza di vita di chi amici a chacere un chacere d'entre voi venisse e guarde il conte sur voi per prendere sovra dei altri dell'avvenire e voi poter sur lui n'ai pas peur d'être catholico quanto rimane toujours autour de voi avec simplicità e sincera che l'Eglise trouve en voi e in vostra junez e missionari joyeux della buona in reina la senora annuncia ora che la sede della prossima giornata mondiale della juventud sarà rio de janeiro la prossima giornata mondiale della juventud la prossima giornata mondiale della juventud la prossima giornata mondiale 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 la prossima giornata mondiale